ragazzi non mi ha fatto comprare nulla ma qua siamo in un locale, quelle sono tutte bucce di mandorle, siamo in un ristorante, mangiamo al ristorante un pranzo si, però devi passare in cucina, in cucina, ci sono le teglie di ieri sera da lavare già ho barattato, ma con chi è la cassa? mangiamo, poi ho me ne vado e poi di passare non c'è bisogno, va bene, intanto mangiamo, zitto e non fare sempre complicanze, ascolta a me ragazzi a tra poco vi faccio vedere cosa si prende con the shade ecco qua l'antipastino e le patatine, guarda questa è una bella parmigiana, una buca buona ragazzi non potete capire, ma com'è? buona ma ti devi sbrigare, io resto qua e basta mangia, ti sbrigati a mangiare, guarda che meraviglia hanno detto che non hanno più piatti, ti sbrigati a mangiare, ancora mangia l'antipasto ce lo siamo fatto fuori, le patatine abbiamo finito, ti puoi andare alla verità ma l'è finito, io ho ordinato il secondo per me e per te, il secondo per me e per te il primo non lo vuoi tu, non la vuoi la pasta? la pasta non la vuoi? la pasta è un riso, vabbè ragazzi aspettiamo il secondo guardate che meraviglia, c'è manco tempo che ci fanno un piatto subito mangia ci dobbiamo sbrigare, ma cosa sono, cosa sono? polpette di cavallo, non è vero, cosa sono? polpette di mucco, no sono i voltini di pollo al pistacchio con patata al forno guardate, guardate, guardate come è filo, vediamo, no fai vedere, che meraviglia vediamo, ah, vai, 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 ah, amore assorata, come dice la barbara d'urso, assorata vabbè Shait, a dopo ragazzi, no vabbè amore, io ho finito, tu già stai fumando, ora che dobbiamo fare? vai lavare i piatti, lavare i piatti, io già sto uscendo, sto uscendo eh, eh, vabbè, ci pensi tu, dai, eh, ci pensi tu, ci pensi tu io stengo, io ci penso io a 10 ore, ti devo venire a prendere, eh vabbè ragazzi, a dopo vado, a dopo eh ragazzi, non so se sei riuscito a vederlo il conto sta parlando col signore della cassa, lo sto convincendo ah ma alla fine hai pagato? eh, hai pagato alla fine? eh